Truffatori di anziani, un fenomeno odioso che nel lanconetano si è sparso a macchia d'olio. Secondo una ricerca svolta dalla questura d'orica, sono 2259 gli ultra 85 anni che vivono da soli e quindi prede perfette per gli impostori che si fingono carabinieri, poliziotti o tecnici delle caldaglie. E' facile cadere in queste trappole per i poveri nonnini, trappole che avvengono anche tramite sms. Solo pochi giorni fa è stato un tabaccaio del piano ad individuare uno di questi casi. Un'ottantenne infatti era entrato tutto trafelato nel negozio chiedendo di fare una ricarica per il figlio di oltre 900 euro. Questo perché aveva ricevuto un messaggio con su scritto Ciao papà, ho perso il telefono, mi serve urgentemente una ricarica a questo numero. E' stato il titolare stesso a capire che si trattava di un tentativo di raggiro. Proprio rivolgendosi agli over 80, il questore capocasa ha deciso in un progetto avviato di concerto con l'amministrazione di inviare una lettera di poche righe direttamente a casa dei nonnini. Non riusciamo ancora ad arginare questo fenomeno, né dal punto di vista repressivo né dal punto di vista preventivo. Questa è un po' un'iniziativa che credo sia molto più incisiva rispetto a tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Andiamo praticamente a far pervenire una nota, un cartaceo, ad ogni anziano a casa. Cioè una nota che loro riceveranno nella loro cassetta delle lettere. Tre avvertenze facili da leggere e semplici da capire. Prima di tutto non aprire agli sconosciuti, non aprire la porta di casa allo sconosciuto. Perché c'è tutto il discorso del falso garabiniere, falso bolizzotto, del falso funzionario del gas e quant'altro. Quindi non aprire la porta agli sconosciuti. Telefono, poi sono tutte quante ovviamente le truffe telefoniche che conosciamo perché sono tutte le modalità che abbiamo evidenziato più volte. Quindi non dare informazioni al telefono ai strani, a persone che non si conoscono. L'emergenza, se c'è un'emergenza 112. Numero unico europeo 112.